Alberto Messali, presidente del Pizza Boom, insomma presidente, è una grandissima vittoria, è importante, i suoi ragazzi hanno dato tutto in campo stasera. Sì, questa sera abbiamo giocato molto bene, ma siamo stati molto molto fortunati, abbiamo preso solo due traverse e un palo, di solito noi ne prendiamo di più di pali e di traverse, ho sentito qualcuno che strillava, che siamo stati molto molto fortunati, vorrei rivedere quel rigore, forse c'era, comunque una partita per me meritata molto, abbiamo giocato veramente veramente, io voglio continuare a fare le dediche perché vedo che mi porta anche fortuna a una mia amica brasiliana, amore, guarda, amore questa scritta è solo per te, baci e abbracci, solo per te, ok? Abbiamo vinto, ok? È tutta per te, anche dal capitano, guarda, anche il capitano ti dedica la vittoria. Grande. Ciao amore, a presto, dopo, ci sentiamo fra un pochino. Ok, ciao Gioia. Scusate, ma è troppo, la dedica è internazionale, è fantastica. Senta, posso chiederle un'altra domanda, visto che lei si è soffermato, proprio sul discorso arbitrale ci sono stati un paio di episodi molto contestati, il rigore, poi insomma loro hanno protestato molto per il gol annullato a Seferi, insomma, come se ci vuole dire qualcosa su questo? Certo, il rigore qualcuno mi ha detto che c'era, qualcuno mi ha detto di no, ce l'hanno dato contro e ok, ma non è stato annullato un gol all'altra squadra perché l'arbitro ha fischiato prima per cui il gol non c'era assolutamente, però io penso che abbiamo meritato moltissimo, abbiamo preso due traverse, un palo, abbiamo sfiorato in più occasioni la partita per chiuderla tante volte e loro penso che hanno fatto due tiri, Marco Caterini che è stato quasi mai impegnato, abbiamo giocato veramente una grande partita e il carattere della squadra questa sera è uscito fuori, all'ultimo minuto abbiamo vinto, con grinta, cattiveria agonistica e tanto cuore, quello che io chiedo sempre ai ragazzi, complimenti comunque anche all'altra squadra, una grandissima squadra, ma non è importante vincere in questo campionato, l'importante è esserci, quando uno c'è già si diverte perché non c'è una squadra debole, non c'è una squadra, anche se l'Alitalia sembrerebbe una squadra, la prossima partita sarà una grandissima partita, una grande sfida e bisogna vincere anche la prossima, entrare in campo veramente concentrati. A questo punto anche a lei chiedo la domanda della serata, un pronostico su BMD Giannico o l'Eurobet? Io dico BMD Giannico, anche perché così almeno fermano l'Eurobet, me lo auguro, comunque no, vinca vinca il migliore, noi pensiamo solo alla nostra squadra, pensiamo a fare bene e divertirci, uscire fuori dal campo che abbiamo giocato a calcio e ci siamo divertiti. Ok, grazie mille.